Didi Brujka Didi Brujka Lato Loku Perinzena Jakobo Perinzena Jakobo Siff figli Si spiegtano Molto Perinzena Da tre minuti Tre downt Da tre minuti Per lato Didi Brujka Se lo voglio presentare Adi Medriser Katana Per principi il cuore nell'ultimo ottagon di Adi, il predizionato. Ricordo che invece lì di Trujka, per questo lì di Trujka è l'ultimo incontro e quindi vi ringrazio il Voi Poster Rack, l'AVMME, che spazza l'AVMME. Grazie. 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 Va bene, va bene. Allora, una cosa importante, non di cascare in avanti, aspetta che fa quel passo e lui incroci. Quando fai il passo tu, vai sempre fuori in situa, ce l'hai troppo addosso, non riesci a scaricare i conti. Ok. Voglio che fai quel passo indietro che è buono, come ha iniziato e lo senti sotto, lo devi portare sotto sia con il dinezzo che con il montante con chiusura. Lo devi spostare sotto, fai gli abbassarsi le braccia. Qua lo senti bene. ti devi sentire un po' le volte tu va bene Aissa, ha lavorato bene le gambe d'appoggio, lavoro solo perfetto mandalo a vuoto, fai i movimenti non ti fermare sulle gambe Aissa, questo gembe passa, perché non continui a lavorare? lui dice che basta, quando lo vuoti le mie tempe confiniti adesso si rispio lungo, lo figgio va bene, va bene è la seconda ripetita alleluia alleluia vai 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 grazie bravo MettいてDI Grazie. 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 Andiamo al perdetto. Il perdetto di questo match è Bari. Match Bari. Premia. Purtroppo Alberto Cesi. Non lo vedo, premia. Ma sono tutti i pelati che è finito. Grazie. 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 Grazie.